influenza di base o entità del basso astrale sulla psiche umana come avviene purtroppo nel nostro periodo nei nostri nei nostri giorni si sono aumentati i casi dove i base cioè entità del basso astrale aggrediscono la psicologia degli esseri viventi esistono le persone che hanno già cosiddetti inquilini chiamamoli così e ci sono proprio posseduti le persone che sono posseduti c'è la differenza tra questi due tipi di parasiti vedo che tanti di voi si state confondendo e mi fate spesso delle domande riguardo delle possessioni sia nella pratica perché sapete che abbiamo già parlato avevo tirato questo tema fuori riguardo la possessione voluta o possessione non voluta ma stasera volevo approfondire un pochino in più questo discorso così voi vi rendevate conto e potevate fare un'analisi una diagnostica alle persone che vi circondano esiste anche il caso quando queste entità del basso astrale si trovano semplicemente intorno delle persone ma non c'è il caso di possessione o solamente oppure in diciamo non li stanno parazzitando su di loro però stanno in continuazione girando intorno a questa persona questi elementi nei nostri tempi hanno organizzato già una festa loro si trovano anche nelle chiese e sui posti dove le persone credono chi siano più sacri da qui sono partiti tutti questi rami deviazioni e questi gruppi che hanno cominciato a praticare tipo satanismo tipo veretnichi in russia quali credono e provano di lavorare con questi entità del basso astrale chiamamoli demoni del basso astrale nelle chiese o semplicemente nella pratica o semplicemente facendo alcuni lavori ma noi stasera non parliamo dei praticanti ma parliamo come riconoscere le persone che hanno già addosso questi inquilini come riconoscerli e come in tempo a provare di aiutarli trovare un praticante che magari potrà darvi una mano e salvare la persona se una persona ha già questo inquilino addosso al 99 per cento questa persona ascolterà questo video o simili argomenti e se ascolterà il primo sintomo sarà contrario di tutto ciò quello che io dirò una persona che possiede questo inquilino nel suo corpo non assolutamente può controllare il suo volere e le sue possibilità e capacità molto spesso questa persona quando viene aggredita e quando contiene dentro la sua struttura energetica uno del base con il tempo loro si moltiplicano e diventano sempre di più una persona posseduta può contenere più di una entità questi diverse entità fanno cambiare il punto di vista di una persona in un giorno la persona può cambiare tantissime volte questi sono dei sintomi quando una persona è posseduta da tante entità queste persone loro diventano più nervosi più cattivi scontrosi linee del viso diventano più acuti io vi dico che nella pratica esiste che alcuni praticanti cercano a fare fare apposta una un lavoro del genere per aumentare il suo potere durante il lavoro come esoterico però io vi devo ricordare che un lavoro del genere se possono permettere solamente i praticanti io dico praticanti perché nella pratica nella pratica nella esoterica non si smette mai di imparare quindi quella grossa parolona operatori usano solamente le persone che non capiscono nulla in esoterica operatore è quello che lo sa come si fa questa operazione o l'altra e finisce lì un praticante tutti i giorni pratica e scopre un qualcosa nuovo cresce e ripratica e scopre qualcosa di nuovo e cresce e ripratica aumentando le sue capacità esoteriche ogni giorno ogni minuto in più diventandoli più complicati ma sinceramente io vi voglio dire che fino adesso io non ho mai visto neanche un praticante che ha fatto questa possessione voluta apposta che poteva comandare completamente sopra questo inquilino diciamo così amico dentro parentesi di solito questi praticanti con tempo vanno sotto la pressione di queste entità e molto spesso in sottomissione che diventa alla fine la situazione questa il mago sta sotto entità che ogni giorno diventa più forte e il mago sempre più debole ma esistono casi anche nella vita umana anche chi non pratica molto spesso questi inquilini fanno residenza secondo questi diciamo occasioni ad esempio i vizi dipendenze l'alcol droghe fumo i perversioni sessuali giochi dell'azzardo eccetera 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 possono anche fare la residenza inquilini dentro una persona se alla persona vi viene fatto la fattura legamento d'amore e altri rituali che portano il carattere distruttivo che si usa tramite lavoro con i bass quando le persone che non sono capaci e non conoscono non hanno la base teorica hanno cresciuti senza un loro credono che sono cresciuti ma non avendo un insegnante loro possono praticare nelle pratiche che a loro non sono stati ben spiegati e anche in questo caso possono acquistare così un inquilino del genere esistono anche rituali quando una strega lo fa apposta una posizione voluta a una persona con un programma della distruzione ci sono diversi programmi c'è sta anche il caso quando le persone possono contaminarsi di queste entità anche nel carcere perché ci sono tante persone nel carcere che possono contaminarli e passarli uno dall'altro questi inquilini delinguenza lavoro nelle forze dell'ordine sì vi sembra ridicolo ma così che funziona alcuni politici eccetera eccetera molto spesso le persone vengono contaminati da queste entità quando sono affamati di gloria ricchezza potere esiste anche contaminazione di rod quando nel rod possono essere questi bs del rod e devo dire che esistono anche gli altri motivi per quale una persona può essere contaminata e con tempo la personalità di una persona si perde diventa sempre più piccola invece il parasi questo parasita che vive nel corpo energetico della persona sta sempre ingrandendosi e sta conquistando completamente il potere sopra una persona molto spesso in questi casi se uno non si rivolge per un aiuto una persona si può trasformare sono semplicemente in un contenitore però la persona l'anima essenza della persona non ci sarà più l'anima sarà completamente sottomessa da bs bs in questo caso loro sono tanti perché non è che c'è solamente uno all'inizio rimane lì loro uno tira l'altro loro usano il corpo della persona loro faranno tutto ciò che vogliono con le mani di questa persona qui servirà un praticante saggio con tanta conoscenza per mandar via questi inquilini noi li chiamiamo pazzilienze nella pratica c'è proprio un enorme capitolo dove si studia riguardo pazzilienze invece se una persona decide di purificarsi ripulirsi non basta solamente la sua voglia il desiderio bisogna anche applicarsi anche ai parenti altrimenti una persona da sola non ce la fa deve essere appoggiato da chi lo circonda vedevo dire che queste entità possono trovarsi anche semplicemente intorno di una persona il la causa di questo può essere stessi cause che avevo elencato nella possessione ma la differenza solamente che loro non possono entrare nei nostri biocampi ma solamente girano intorno e le dicono le sussurrano le cose sull'orecchio per questo io sto dicendo è pericoloso quando voi sentite che qualcuno vi sussura qualcosa o vi dice sugli orecchi proprio percepite le voci questo vuol dire che provano di entrare ma non riescono quelle che stanno dentro già nei vostri biocampi loro non non si sente più loro vi comandano ormai invece quelle che respingono e quelle che c'entrano cercano di entrare ci sono dei rituali quando ci si mandano per far diventare una persona matta sono i casi di moroc avete visto io avevo lavorato praticato vi ho fatto un esempio e ci sono i casi che questa queste entità vogliono entrare ma non riescono entrare e fanno diventare a una persona completamente pazza vanno anche nei manicomi così finiscono anche quelli praticanti che credono di essere streghe ma non non sono e voi vedete come loro si trasformano molto velocemente in giro di un anno possono cambiare completamente all'aspetto fisico questi sono i primi sintomi quando cambia il viso di una persona in peggio perché se una praticante lavora e lavora con le energie divine aiuta le persone li purifica se purifica da solo lei si ringiovanisce ma quando tu sei una fattucchiera non sei stata invitata non sei stata battezzata credi di fare riti o semplicemente stai giocando con la magia semplicemente nominando certe forze tu non attiri se tu credi di evocare una dea ecote o rivolgersi a lei ma non sei stata consacrata quindi le forze di idea ecote non ti vedono non ti calcolano non ne vengono mai verso di te unica cosa che poi attirare sono delle entità del basso astrale che ti riempiono come un peperone forcito e diventerà uno straccio entro un anno te renderai ridicola su tutte le reti sociali la gente ti attaccherà perché la tua rete olistica non funziona la fama dei soldi la fama di truffare la fama di diventare a scagliare ricca diventare a qualsiasi costo perdendo la sua faccia davanti le persone sono sempre i sintomi di possessioni che hai ti sei beccata oppure postare sul facebook centrioli melanzane scrivere la mattina io ce lo duro o ancora 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 ce l'ho o le cose del genere questi sono primi sintomi che una persona già sta impazzendo e vi devo dire di più se voi veramente pensate cari ciarlatani che una fattura dura in giro di due tre giorni questo è il primo prima conferma che giorno la mattina dopo io ci ho lavorato tu posti che tu stai bene questa è per me è stata una conferma finale che siete zero nulla sotto zero spiego perché una fattura è ovvio che non funziona giorno dopo dal me il tempo non a me a quelle forze perché non sei nulla che io devo sprecare il tempo per metterti sotto terra non tu devi guadagnare una cosa da me è proprio che io ci metto le mani per farti le cose pesanti e assolutamente non era concentrato rito sulla tua melanzana che posti ogni volta rito concentrato su tutte altre cose e vedrai con tempo come la vita diventa sempre peggio già vedo io già vedo le conseguenze io già vedo io vi avevo detto che io non andrò a bussare sulle dalla polizia e l'altro io lavoro come lo so io in quella maniera vado avanti potete scrivere quello che vi pare io non mollo dopo quello che è stato consegnato per le autorità non sono stata io andrete avanti con la persona che non sono io e vedrete da parte di chi ma io non mollo più nessuno che si è comportato verso i miei confronti in questa maniera tutti i sciacali riuniti uno per uno già sono stati recuperati quindi sciacali pagheranno uno per uno ogni faccina ogni sorrisino ogni like quello che voi vi scrivete nei vostri sporchi canali è stato memorizzato e io sto provvedendo per ognuno di voi ma la possessione di queste persone già sono evidenti le persone che hanno messo le mani nella magia ma non per praticare no giocare con la magia rimangono sempre in manicomio alla fine rimangono sempre umiliati davanti tutto il pubblico quindi io questa io lo so che il video come questo porterà un sacco di urli ma io non mi metto più combattere io combatterò ma in silenzio ogni commento che voi io non faccio dei nomi e cognomi chi se rivede in questo video non è colpa mia che state conducendo la vita del genere ma dovete sapere che fingendosi streghi maghi stregoni maghi di millesimo livello baccalauri dovete sapere che tutto il gioco così con mondo di magia soprattutto per vostro uso sporco sempre viene punito non è mai un trufaldino allora già se la passano meglio quello che le fanno le truffe diverse ma le truffe nella magia sempre vanno finire male perché le forze non permettono che usano loro per fare del male per derubare oppure per prendere giro le persone quindi danno il diritto il comando alle forze del basso astrale di aggredire quelli che si spacciano per cosiddetti maghi come come l'avevo già detto possessione è già ultimo livello di sottomissione dell'anima umana di solito già in questo livello personalità si sottomette e soffre di tanti dolori bs l'entità del basso astrale che hanno aggredito lo costringono a fare le cose indiscrivibili le persone possedute urlano fanno la voce dalla gola loro se fanno si tagliano se fanno i danni fisici loro se vedete queste persone litigano quando litigano usano tante le volte parolacce perché perché l'avevo parlato parolacce già proprio è la chiave qualsiasi parolaccia bestemmia è la chiave di evocazione di bs quindi più dicono le parolacce più li pappano loro mostrano se vogliono mettere nella mostra vogliono che gli altri li notano prima succedeva nei posti pubblici adesso nei reti sociali loro si comportano in una maniera non adeguata se voi avete notato anche nei tanti film di horror che più o meno succede così però nella vita la cosa è molto più prosaica una persona che ha inquilino dentro già se stessa mai non si rivolge per un aiuto perché lui non può comandare più sul se stesso lui già non sta capendo nulla quasi nulla in questi casi per trovare aiuto bisogna cercare e veramente verificare un praticante molto con tanta cautela aiutarlo con la foto già con le possessioni è impossibile finché si tratta degli inquilini appena entrati e appena colpiti una persona ancora ci si può provare ma quando si tratta delle possessioni l'ultimo livello quando completamente hanno posseduto la volontà e hanno sottomesso l'anima è impossibile più di lavorare con la foto serve la persona personalmente questo deve essere un praticante molto potente con tanta esperienza quindi a livello di esorcista io nel mio gruppo ho pubblicato il video nella congrega dell'esorcismo che facevo le ragazze hanno visto le mie colleghe la signora che parlava in diverse lingue cambiava la voce e alla fine della mia visita la sua faccia si è ricoperta completamente di lividi del sangue senza che nessuno non gli toccava e lei diceva che gli uscivano i vermi dalla pelle io non potevo pubblicare ovviamente questo video perché c'è una persona a mezzo ma con la congrega ho condiviso per fare vedere come succede la possessione questi bs entità del basso astrale loro influiscono non solamente sulla psiche umana ma anche sulla vita in generale della persona voi dovete quando voi sospettate una persona dovete prestare attenzione o quelle cose che avevo elencato sopra oppure seguenti che vi dirò oppure potete notare qualcuno dei vostri che conoscete persone o anche sui voi stessi prima la persona è predisposta ai vizi bere molto spesso fissata con i porno film fuma si droga giochi d'azzardo cambia molto spesso i partner sessuali si può accentuarsi una dipendenza ma anche di più gli attacchi panici quando una persona va in panico senza motivo complicati situazioni psicologiche impulso di aggressività arrabbia isteria nervosismo le idee che sono di depressione paure impulsi psicologici improvviso può succedere che gli capitano le situazioni molto diciamo dispiacevoli alla persona viene molto spesso fregata oppure frega gli altri se si trova mezza la strada molto spesso gli vengono incontro gli alcolizzati cioè anche questi che possono portare queste entità cioè i simili attirano i simili parlano a vanvera molto spesso cascano nelle figuracce che non c'entra niente sospettano in qualsiasi cosa loro stessi ad esempio aveva annunciato un tema la persona che ha delle posizioni aveva sospettato che il tema era sul di lei ha fatto la live sopra la mia live ha fatto una figura di idiota perché non avevo neanche idea di parlare di questa persona la gente si è sbudellata lei ha perso 20 persone sul canale io ho aumentato ecco questo è un altro sintomo che le persone prima si sentono sempre chiamati in causa sempre con le paranoie non sono sicuri in se stessi e molto spesso fanno le figure ridicoli persona crede di perdere completamente la ragione non sono più nello stato di ragionare vanno molto presto in panico e parlano le cose che uno non coincide con l'altro molto spesso dentro casa si possono rompere le cose la tecnologia a queste persone si rompe molto spesso molto spesso litigano dentro casa i sogni erotici sogni quando qualcuno li aggredisce gli incubi voglia di violare la legge minacciare con la legge minacciare le altre persone creare situazioni di stalking sono posseduti dall'invidia perché invidia è una entità voglia rubare voglia di diventare un piromane voglia di provocare voglia di provocare litigi anche qualche volta arrivare alle mani quell'altro mezzamatto che aveva chiamato diceva che veniva a casa mia vieni 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 ho un marito che ha 30 anni il mio figlio che c'ha 24 il mio figlio il campione di box vieni vieni io voglio vedere ma anche al suo lito vediamo chi è codardo come l'avevi detto da solo mi hai chiamato tutta la mattina a stalkerizzarmi mio marito ha visto il telefono perché ero sopra a cambiarmi risposto il telefono marito mi ha seguito e ovviamente ho dovuto denunciare e questo diceva ha detto il mio marito che è marito codardo marito codardo ha detto vieni qua parleremo ma non viene mai verme perché dalla faccia che abbiamo trovato è proprio la faccia di verme che ha abbiamo trovato tutta la sua famiglia tutti abbiamo trovato adesso vediamo come la canta cosa pubblicherà la fattura grande luciferiano non arriva giorno dopo vera fattura la fattura trasforma avvelena la tua vita giorno dopo giorno finché non ti uccide o non ti trasforma nelle cose peggiori quello che fa la fattura ma io non l'ho fatto quella morte non ti meriti che io devo a spendere tutto quel tempo per te però non ti lascio stare prossimo sintomo è completamente assente la persona dei principi morali la persona non guarda in faccia a nessuno pur di arrivare ai suoi sporchi traguardi la persona è molto non è umile per niente si sente chissà chi però intanto se nasconde quando magari lo chiamano per chiarire completamente indifferente verso le altre persone minaccia le persone sono tutti sintomi dei possessioni completo cambio dell'aspetto fisico nello sguardo nella voce nel comportamento la persona non riesce a spiegare proprio quello che fa il suo comportamento proprio qualche volta ammette come in italiano sarebbe il diavolo mi ha fatto sbagliare qualcosa mi ha fatto sbagliare hanno voglia di guardare spesso video dove ci sono incidenti stradali gli orrori e tanto altro crudeltà pervertito cinnico sono le cose che all'altra persone difficilmente che si avvicinano queste caratteristiche le malattie che dottori non riescono a trovare da dove arrivano questo io vi ho dato solamente pochi sintomi come i bes possono influire sulla mente e la fisiologia umana loro possono essere uno e anche più di uno nello stesso momento a volte possono essere in più a volte possono essere meno una persona del genere è come la porta del bagno pubblico alla stazione escano e entrano e così in continuazione tutto tutta la sporcizia del basso astrale quindi se voi avete riconosciuto qualcuno dei vostri conoscenti e peggio ancora parenti cercate di dare aiuto a questa persona e se voi avete riconosciuto queste cose in voi dovete assolutamente di procurarvi un buon praticante e provare di liberarsi vi avviso anche le persone che mi seguono che i casi delle persone del genere voi avete visto di quelle che mi aggrediscono sono delle possessioni perché queste persone hanno messo le mani nella pratica non avendo nessuna teoria credendo di truffare e basta hanno attirato un sacco di entità del basso astrale e adesso si trovano in quella condizione io assolutamente vi avviso state attenti a quelli praticanti che non sono capaci e non hanno la teoria e non hanno le conoscenze perché sono pieni zeppe di queste base addosso quindi figuriamoci andare da questa persona o per una purificazione o per qualsiasi altro rito quante può essere pericoloso per voi non solamente pericoloso non solamente ma anche pericoloso di avere a che fare con le persone del genere perché queste entità sono contagiose è una malattia se una persona ha delle possessioni può contaminare anche voi loro perché girano per reti sociali e cercano provocare perché queste entità li pappano li pappano e hanno bisogno di energia negativa per non dare tutta l'energia a questi bess loro provocano altre persone così altre persone si arrabbiano e fanno mangiare al loro besse al loro entità del basso astrale cioè pappano pure voi vi mangiano oggi vi mangiano domani se creeranno una porticella una stradina li attaccheranno pure voi io vi sto dicendo evitate queste persone non gli rispondete ne anche nei commenti perché per quelle entità non ci sta la lontananza energia vi ricordate quando io avevo detto quando quelle persone sono stupide che credono di attaccare offendere una strega sotto i profili falsi ai miei bess li trovano senza la foto e sì una strega ce l'ha noi li comandiamo perché noi siamo stati consacrati per questo lavoro prescelti abbiamo guadagnato la fiducia delle forze le fattocchiere no le fattocchiere non sono mai stati né consacrati né richiamati sono venuti solamente per uno scopo di guadagno hanno messo le mani nella pratica credendo di evocare le divinità o le forze demonie che di alto livello come non sono stati consacrati nessuno non li conosce è ovvio che non ci vengono queste divinità ma i ragazzi di basso astrale sì questa è la differenza tra una strega vera praticante e una fattucchiera la mia nonna diceva sempre evitare le fattucchiere mi ricordo una volta aveva scacciato dalla campagna una che si proponeva come una fattucchiera come una strega ma era una fattucchiera le fattucchiere prima cosa che fanno cercano di spaventarvi che voi avete delle fatture che voi avete delle maledizioni pesanti addosso perché lo fanno lo fanno perché prima vi spaventano così i so i bes quelli che stanno papando lei mangeranno un po' e in più scavano un pochino da voi ricavano un po' di soldi non è che vi propongono io sapete molto spesso vedo la situazione tragica delle persone non glielo dico neanche solamente prendo situazione nella mia mano e porto avanti una vera praticante non va mai spaventare le persone che la persona può anche nella disperazione uccidersi o non va mai ricorrere che non gli hanno pagato qualcosa e che lei vuole essere pagata mai tanto sappiamo come va quindi questi sono i sintomi primi sintomi che questi fattuccheri sono pieni zecche di queste entità del basso astrale loro non hanno nessun potere anzi li possono solamente rovinare la vita quindi io qua do più religioni ragione che a questi fattuccheri e meglio se andate in chiesa meglio se andate nella moschea che da questi fattuccheri questo che volevo dirvi stasera buona fortuna a tutti